Domanda numero uno. Di dove sei? Sono di Taiwan. Sono australiano ma vivo a Parigi da sette anni. Sono nata e cresciuta in California. Da quanto studi l'italiano? Studio l'italiano da tre anni, quasi tre anni e mezzo. L'ho studiato tre anni all'università e poi da 2019 fino adesso, quindi circa cinque anni. Perché hai deciso di voler imparare l'italiano? All'inizio la ragione è un po' stupida perché volevo fare un modello in Italia, però dopo aver cominciato a imparare l'italiano mi piace questa lingua, anche la cultura e la storia. Domanda numero uno. Di dove sei? Sono di Taiwan. Sono australiano ma vivo a Parigi da sette anni. Sono nata e cresciuta in California. Da quanto studi l'italiano? Studio l'italiano da tre anni, quasi tre anni e mezzo. L'ho studiato tre anni all'università e poi da 2019 fino adesso, quindi circa cinque anni. Domanda numero uno. Di dove sei? Sono di Taiwan. Sono australiano ma vivo a Parigi da sette anni. Sono nata e cresciuta in California. Da quanto studi l'italiano? Studio l'italiano da tre anni, quasi tre anni e mezzo. L'ho studiato tre anni all'università e poi da 2019 fino adesso, quindi circa cinque anni. Domanda numero uno. Di dove sei? Sono di Taiwan. Sono australiano ma vivo a Parigi da sette anni. Sono nata e cresciuta in California. Da quanto studi l'italiano? Studio l'italiano da tre anni, quasi tre anni e mezzo. L'ho studiato tre anni all'università e poi da 2019 fino adesso, quindi circa cinque anni. Perché hai deciso di voler imparare l'italiano? All'inizio la ragione è un po' stupida perché volevo fare un modello in Italia, però dopo aver cominciato a imparare l'italiano mi piace questa lingua, anche la cultura e la storia. Perché dopo il mio primo viaggio in Italia, quarant'anni fa, volevo imparare la lingua che secondo me è la più bella del mondo. Domanda numero quattro. Quando dico Italia, personalmente, cosa ti viene in mente? Direi la bellezza. La bellezza della lingua, la bellezza delle ragazze e anche la bellezza dei panorami. Domanda numero uno. Di dove sei? Sono di Taiwan. Sono australiano ma vivo a Parigi da sette anni. Sono nata e cresciuta in California. Da quanto studi l'italiano? Studio l'italiano da tre anni, quasi tre anni e mezzo. L'ho studiato tre anni all'università e poi da 2019 fino adesso, quindi circa cinque anni. Perché hai deciso di voler imparare l'italiano? All'inizio la ragione è un po' stupida perché volevo fare un modello in Italia, però dopo aver cominciato a imparare l'italiano, mi piace questa lingua, anche la cultura e la storia. Domanda numero uno. Di dove sei? Sono di Taiwan. Sono australiano ma vivo a Parigi da sette anni. Sono nata e cresciuta in California. Da quanto studi l'italiano? Studio l'italiano da tre anni, quasi tre anni e mezzo. L'ho studiato tre anni all'università e poi da 2019 fino adesso, quindi circa cinque anni. Domanda numero uno. Di dove sei? Sono di Taiwan. Sono australiano ma vivo a Parigi da sette anni. Sono nata e cresciuta in California. Da quanto studi l'italiano? Studio l'italiano da tre anni, quasi tre anni e mezzo. L'ho studiato tre anni all'università e poi da 2019 fino adesso, quindi circa cinque anni. Domanda numero uno. Di dove sei? Sono di Taiwan. Sono australiano ma vivo a Parigi da sette anni. Sono nata e cresciuta in California. Da quanto studi l'italiano? Studio l'italiano da tre anni, quasi tre anni e mezzo. L'ho studiato tre anni all'università e poi da 2019 fino adesso, quindi circa cinque anni. Perché hai deciso di voler imparare l'italiano? All'inizio la ragione è un po' stupida perché volevo fare un modello in Italia. però dopo aver cominciato a imparare l'italiano, mi piace questa lingua, anche la cultura e la storia. Perché dopo il mio primo viaggio in Italia, quarant'anni fa, volevo imparare la lingua che secondo me è la più bella del mondo. Domanda numero quattro. Quando dico Italia, personalmente, cosa ti viene in mente? Direi la bellezza. La bellezza della lingua, la bellezza delle ragazze e anche la bellezza dei panorami. Domanda numero uno. Di dove sei? Sono di Taiwan. Sono australiano ma vivo a Parigi da sette anni. Sono nata e cresciuta in California. Da quanto studi l'italiano? Studio l'italiano da tre anni, quasi tre anni e mezzo. L'ho studiato tre anni all'università e poi da 2019 fino adesso, quindi circa cinque anni. Perché hai deciso di voler imparare l'italiano? All'inizio la ragione è un po' stupida perché volevo fare un modello in Italia. Però dopo aver cominciato a imparare l'italiano, mi piace questa lingua, anche la cultura e la storia. Domanda numero uno. Di dove sei? Sono di Taiwan. Sono australiano ma vivo a Parigi da sette anni. Sono nata e cresciuta in California. Da quanto studi l'italiano? Studio l'italiano da tre anni, quasi tre anni e mezzo. L'ho studiato tre anni all'università e poi da 2019 fino adesso, quindi circa cinque anni. Domanda numero uno. Di dove sei? Sono di Taiwan. Sono australiano ma vivo a Parigi da sette anni. Sono nata e cresciuta in California. Da quanto studi l'italiano? Studio l'italiano da tre anni, quasi tre anni e mezzo. L'ho studiato tre anni all'università e poi da 2019 fino adesso, quindi circa cinque anni. Domanda numero uno. Di dove sei? Sono di Taiwan. Sono australiano ma vivo a Parigi da sette anni. Sono nata e cresciuta in California. Da quanto studi l'italiano? Studio l'italiano da tre anni, quasi tre anni e mezzo. L'ho studiato tre anni all'università e poi da 2019 fino adesso, quindi circa cinque anni. Perché hai deciso di voler imparare l'italiano? All'inizio la ragione è un po' stupida perché volevo fare un modello in Italia, però dopo aver cominciato a imparare l'italiano, mi piace questa lingua, anche la cultura e la storia. Perché dopo il mio primo viaggio in Italia, quarant'anni fa, volevo imparare la lingua che secondo me è la più bella del mondo. Domanda numero quattro. Quando dico Italia, personalmente, cosa ti viene in mente? Direi la bellezza. La bellezza della lingua, la bellezza delle ragazze e anche la bellezza dei panorami. Tu sei un gran bucciardo. Tu sei un gran bucciardo. Ficololo l'ho, enta akbar ketter. Tu, يعni, enta. Sei. Sei, verbo essere, يعni, enta. Enta. Tu sei, يعni, enta. Enta. Tu sei. Io sono. Io sono. Bene. E l'ho, enta. E l'ho, enta. Tu sei, enta. Sei, sempre enta. Bugiardo. Bugiardo, anni, è volto via ketter. Kedter. Ok? Dicci aggollo. Gran bucciardo. Gran bucciardo, anni, kibir, gran, kibir. Alla si è grande. Grande, maghia, kibir. Ratti domani. Tu sei un gran bucciardo. Tu sei un gran bujardo Tu sei un gran bujardo Tu sei un gran bujardo Ficolo l'ho, enta akbar kettib Tu, yani enta Sei, sei verbo esser, yani enta Enta, tu sei, yani enta Enta, tu sei, io sono Io sono, yani bia ena Tu sei, enta Meda sei, sempre enta Bujardo, bujardo, nani bia kettib Kettib Ok, l'ho, gran bujardo Gran bujardo, yani kbir, gran kbir Jajem grande Grande, ya kbir Aradidumai Tu sei un gran bujardo 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 QuLEY